We are each responsible for the thoughts we think. Ciascuno di noi è responsabile per i pensieri che pensa. When you are in alignment with who you really are, you cannot help but uplift those with whom you come into contact. Quando sei in alignment con il tuo vero essere, con quello che hai dentro, allora non puoi prevenirti dal sollevare, dal sostenere il prossimo. And this is one of the reasons why I decided to start the channel, one of the reasons that inspired me to create this kind of content, to share this kind of content with as many people as possible. After all, oftentimes I'm here reading, improving, expanding my views, my knowledge, and I feel like, oh, I really have to share this. I really have to make sure that as many people as possible feel the way I feel when I feel my mind stretching. So that's why I started the channel. Quindi stavo spiegando che alla fine della fiera una delle ragioni per cui ho iniziato a creare questo tipo di contenuto e condividerlo attraverso il canale è proprio perché quando sono qui che leggo, studio, spando le mie conoscenze, le mie vedute, mi sento proprio così acceso, così infervorato che ho il desiderio, la volontà di condividere questo tipo di conoscenze con il più vasto numero di persone e quindi è stata una delle ragioni, una delle ispirazioni che mi ha portato a creare questo tipo di contenuto per poterlo poi condividere attraverso il canale. Ma possiamo sollevare, sostenere il prossimo soltanto quando siamo allineati, quando siamo in pace dentro, con noi stessi. As I often say, as within, so without. Come dico molto spesso, come dentro, così fuori. So, this past week, I've been wanting to upload a vlog entry, an entry to my vlog playlist, but I haven't had the chance because just like a storm, just like the bad weather can come abruptly to town, I had other priorities and urgent things to do. Avrei voluto caricare più video, creare più video per, più ingressi per il vlog questa settimana, ma così come accade quando arriva il brutto tempo in città, ci sono state cose che hanno un po' scombussolato quello che, eventi che hanno un po' scombussolato quello che erano le mie pianificazioni, le mie priorità e così via. So, here I am, and after all, the bad weather did come to town, perché alla fine, di fatto, il brutto tempo è arrivato in città. This is what a tornado watch looks like. Although you can't see anything through the screen, but at least you might hear the rain. Yeah, it doesn't see anything. It is what it is. E' così che si presenta un tornado watch per la possibilità di un tornado watch. Belena, te vivi in Florida, te si che stai bene, si si. Holy cow. Holy cow. Holy cow. But once that we weathered the storm, we can come out of it on top and even better and stronger than before. And once that we realigned ourselves with Source, with the Source within, we can then dedicate ourselves to all those activities, all those tasks that are necessary for us to improve ourselves and continue along the path to accomplish and accomplish our goals and realize our dreams and create the reality that we desire. Ma una volta che abbiamo superato il maltempo, una volta che abbiamo superato la tempesta, possiamo uscirne più forti di prima, migliorati. E a quel punto, una volta che abbiamo ritrovato la serenità interiore, proseguire lungo il percorso e dedicarci a quelle mansioni, a quelle azioni che ci permettono di realizzare i nostri obiettivi, realizzare i nostri desideri e creare la nostra realtà. And thus, once that the sun started to shine again, the very same day, in fact, because sometimes it doesn't take very long for things to get better, we were able to turn these into these. E così, una volta che il sole è tornato a splendere e è accaduto proprio lo stesso giorno, perché spesso e volentieri non ci vuole tanto perché le cose migliorino, abbiamo avuto modo di trasformare questo in questo. Only one hour and a half worth of work, I understand, is not that impressive, but this is one of those things that I had to deal with this week and that it took me away from vlogging as much as I wanted to. Mi rendo conto che in un'ora e mezzo di lavoro il risultato poi non sia così impressionante, però è una di quelle cose a cui ho voluto e dovuto dedicarmi in settimana che mi hanno, diciamo così, impedito di creare le vlog entries alle quali a cui avrei voluto dedicarmi. Also because, going back to Abraham's card, I can only vlog when I am at peace with myself, only when I am in alignment with all the other things that I would like to do. How can I be of value to anybody else if I'm not first at peace with myself? Quindi, tornando anche, tornando a fare riferimento alla carta di Abraham, in fondo, posso soltanto riuscire a dedicarmi con volontà, lucidità alla creazione del contenuto inerente al vlog una volta che sono in pace con me stesso, in allineamento con me stesso e tutte le altre cose a cui voglio dedicarmi, perché se non sono in linea con me stesso, appunto, non ho valore, non ho la lucidità, il desiderio, la passe interiore per poter condividere valore, diciamo. E così continua la carta di Abraham X. Infatti la carta dice il tuo valore per coloro che hai attorno inges, cioè si attacca, fa cardine soltanto su una cosa, il tuo allenamento personale con la sorgente, with source, bellissimo. So we can only be of help, of value to others once that we are at peace with ourselves. How is that for time management? I mean, we have to first learn how to manage our thoughts and our emotion, our serenity, so that then we can better manage ourselves in time and all the other tasks and things that we dedicate ourselves and our attention to. Dopotutto, non si può essere di aiuto, di sostegno, di valore per il prossimo se non si è prima in pace con noi stessi dentro. Anche a livello di gestione del tempo è fondamentale arrivare a questa conclusione che prima bisogna gestire i nostri pensieri, poi le nostre emozioni per meglio relazionarci con l'esterno, per meglio gestire noi stessi nel tempo e gestire poi gestirci in relazione con tutte le varie attività e cose che vogliamo fare. Bottom line as the card ends everyone is responsible for the thoughts they think and the things that they choose as their objects of attention. So it's up to us to prioritize, to be conscious, aware of what we focus on and what we dedicate ourselves to, which is something I'm working on daily restructuring priorities and doing my best to dedicate my energy, my attention to what is most important to me in alignment with my priorities and ambitions. That's why I have to dedicate myself to the hard work on one of the two properties that we are acquiring. Quindi la carta conclude il succo del discorso è questo, che ciascuno di noi è responsabile per i pensieri che pensa e le cose a cui dà la propria attenzione, le cose che sceglie come soggetti della propria attenzione. Quindi la nostra attenzione è fondamentale acquisire la consapevolezza delle cose a cui stiamo pensando, a cui stiamo facendo attenzione e di conseguenza a cui ci stiamo dedicando ed organizzarle in funzione di quelle che sono le nostre priorità e ambizioni appunto che ovviamente variano nel tempo. È proprio per questo che in settimana ho dovuto dedicarmi ad alcune di queste attività come appunto risistemare, ripulire l'esterno di questo immobile di cui stiamo portando avanti l'acquisizione. All this to say that there are a bunch of things that I would like to share through this content through these vlog entries. I've been reading the book Guns, Germs and Steel it's very interesting and I wanted to share a few of the suggestions that I read during the week from the book Change Your Brain Change Your Life and yesterday I read for about an hour the top one by Deepak Chopra but again as of right now it's all a matter like for everybody like every day it's all a matter of managing juggling with all the different priorities so stay tuned and I'll see you on the next one So I would like to share with more continuità with more constance all the things that I I would like to extrapolate from the letture that I'm going to forward to the book Armi, Germi and Ferro is very interesting in terms of the story of how it's developed humanity on the earth it's really interesting change your brain change your life there was the last episode that I read a lot of advice on how to do it that is just what the book talks about but the time is we're gesting in the best in the future in the future we're gesting in the best in the best in the best in the best per giostrarci al meglio tra le varie priorità che ciascuno di noi ha e in questi giorni ho avuto altre ho preferito dedicarmi ad altre cose e di ciò ieri ho letto un'ora di questo libro è davvero fantastico ve ne parlerei per una giornata intera quindi cercherò di dedicarmi con maggiore continuità alla creazione di questi vlog detto questo I'll see you in the next one cioè ci vediamo al prossimo ingresso and be better with books improve your thinking by reading to improve this video has been brought to you by us at real estate helpful solutions we buy houses helping people to find out more about how we can be of help text or call us at 727 366 6916 or send us an email at the email address you see in the photo